Stiamo celebrando la Pasqua. La Pasqua ha un messaggio molto forte di vita eterna, di luce, di risurrezione. Quindi questo è un esercizio di pietà, un po' parallelo anche alla Via Crucis. Via Crucis significa cammino della croce, passione morte del nostro Salvatore. Questa è la Via Crucis che sarebbe gli incontri di Gesù Cristo, nostro Salvatore risorto, con i suoi apostoli, i suoi amici, momenti particolari. Allora, questo esercizio di pietà è stato suggerito dal Concilio Vaticano II, oramai più di 60 anni fa. E quindi, perché? Perché nella nostra tradizione cattolica, cristiana, ahimè, abbiamo dato troppa importanza alla passione e morte del nostro Salvatore. Ma l'evento più importante della nostra salvezza, che è la risurrezione, abbiamo praticamente un po', lo abbiamo lasciato come insordina. Ma il Concilio Vaticano II ci propone di presentare, attingendo alle fonti del Vangelo, la gioia della risurrezione. Quindi qui, in questa parrocchia, è una delle poche parrocchie qui a Terni che abbiamo questo esercizio della Via Luce, tanto che le nostre comunità, i nostri parrocchiani non conoscono cosa sia. Quindi, io è da un bel po' di tempo che la propongo nelle parti dove sono stato inviato, e so che produce dei frutti bellissimi, perché si parla più di vita eterna, risurrezione, amore, dono, speranza, allegria. Ecco, il cristiano che approfondisce il messaggio del risorto ha tanti motivi per essere felice, contento e rendere conto della propria speranza. Il pittore qui si chiama Giancarlo Bregliozzi, un uomo maturo che ha la passione per la pintura. Qui, in questa parrocchia, il Cuore Immacolato di Maria, ho trovato una presentazione della Via Crucis, realizzata anche da questo pittore. E quindi, dopo che sono arrivato, gli ho proposto la novità della Via Crucis, che anche per lui è stata qualcosa di recente, di nuovo. Gli ho detto, non è che ti piacerebbe fare anche una proposta tua per risaltare la risurrezione, per risaltare questi momenti particolari della vita del Signore risorto. E quindi lui accolse questa proposta, le è piaciuta molto, e nonostante la sua età, comunque la passione per la pittura ce l'ha, e soprattutto la passione per testimoniare la fede attraverso la pittura, attraverso questo che si chiama la Bibbia dei poveri, perché i quadri, le vetrate, quello che troviamo nella Chiesa, è un tipo di linguaggio che comunica anche il messaggio evangelico. Quindi è stato accolto, io ringrazio il Signore perché nella mia parrocchia ho diverse persone che sono validi in quanto a proposte di pittura. Ecco, stiamo anche realizzando un altro stile iconografico, stile delle icone bizantine, che verranno messe in un'altra delle nostre chiesette.